cari amici appassionati di auto vintage vi devo dare notizie altamente drammatiche guardate qua appassionati di di citroen ds guardate guardate la pazzia di abbandonare queste auto qua in questa maniera forse questo è argentato dovrebbe essere un id magari eccolo qua ragazzi appassionati di citroen ds quello che volete la situazione qua è veramente precaria ragazzi guardate immagini altamente drammatiche e niente insomma non c'è niente da dire in questo luogo qua ringrazio il bravissimo alessio che mi ha segnalato la posizione per poter arrivare in questo luogo di morte di tristezza guardate qua veramente un peccato lasciare diperire auto che hanno fatto veramente la storia la storia della nostra italia della nostra fabbrica italiana automotive ora te lì c'è una bmw addirittura veramente un peccato e niente qua siamo potuti entrare tutto aperto non c'è nessun cartello di divieto eccetera eccetera siamo solo degli appassionati di auto storiche che cercano di rendere onore insomma queste vecchie glorie lasciate deperire qua dallo stato cosa dici stefano lo spreco lo spreco è veramente un peccato queste auto potevano andare appunto potevano andare appunto a qualche collezionista un'asta eccetera eccetera si potevano al tempo al tempo adesso non le salvi più niente ragazzi lei con questo vi saluto assoluto la vecchia gioco sono tutti gli amici del canale e niente ringrazio ancora una volta alessio perché se non ci fosse stato alessio come dico sempre il canale del marvin vive grazie all'aiuto di tutti e uno di questi è alessio adesso è un grande anche come cuore ciao a tutti a presto